Il parco naturale del Lago di Candi è ormai 20 anni che è stato istituito e sicuramente superati i primi anni difficili dall'istituzione, sicuramente adesso sono più i vantaggi che dà questo parco che non gli svantaggi, perché si riesce a fare sinergia tra gli agricoltori, con la parte sportiva, con il turismo e quindi sicuramente il parco contribuisce a incrementare il turismo, le gare sportive che vengono hanno modo di confrontarsi in un ambiente naturale, gare sportive ovviamente compatibili con ambienti naturali e poi Fiore L'Occhiello che abbiamo un po' su questo parco, è sorta un'associazione che si chiama Vivere i Parchi, che lavora con le scuole, con le associazioni di disabili nell'area del parco e quindi tutto questo sicuramente da un punto di vista ambientale, didattico e turistico, sicuramente il parco di Candia, ripeto, superate le difficoltà iniziali, non può che dare benefici e speriamo che continui così.